Non mancano gli ultimi 3-4 minuti di attenzione perché non posso dire altro, oggi onestamente a me la squadra non è piaciuta tanto, cioè la fase difensiva mi è piaciuta molto, l'abbiamo fatta bene, l'organizzata, l'abbiamo preparata penso bene, loro tiri in porta ne ha fatto uno il secondo tempo che ha fatto una gran parata al portierino, però non mi è piaciuto lo sviluppo delle azioni da metà campo in su, abbiamo sbagliato tutti gli ultimi passaggi dove secondo me invece azzeccati quelli che tecnicamente ne hanno sbagliato, avessimo azzeccato questi ultimi passaggi potevano essere un po' più pericolosi, le pariglie puoi anche perdere, però dovevamo tirare un po' di più in porta, ma non abbiamo tirato in porta perché non siamo arrivati a cacciare in porta perché mancava l'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato penso da contatti forse una decina di palle filtranti, palle dentro per mettere in difficoltà sulle ripartenze e quando manca quello non riesce a che la riporta, poi capita che la pariglia però la porti a casa comunque sullo 0-0 perché vedevo che non c'era più grande difficoltà nella gestione difensiva, poi dopo capita quello, lo sbagliare offensivo, volta e lo ha perso la partita, mi spiace solo perché forse, dico magari, non so, non so, in un momento che non riesco a valutare la tuta, però non era il punto perché hanno anche portato la casa. Senza dubbio il porterino oggi mi era in campo che si è andato a sentire in settimana. No, no, non c'era bisogno, io non lo dubbi sulla qualità di questo ragazzo, oggi ho fatto il suo parate difficili che erano palle che schizzavano davanti, le ha parate con il tempo giusto, questa volta non c'entra niente lui, c'entra... Se il portogliario ha votato delle parti, invece tu, effettivamente le attività poco importa... Non abbiamo creato difficoltà loro perché sbagliavamo l'ultimo passaggio da metà campo in su, perché le ripartenze le facevamo e che sbagliavamo l'ultimo passaggio, di conseguenza non li mettevamo in difficoltà. Loro prendevamo palle e loro ripartivano sugli errori nostri, quindi quello che abbiamo sbagliato in maniera clamorosa di quello che ne sono visto io. Difatti due o tre ripartenze vota, l'ultimo passaggio, se ci fosse un po' più di precisione, probabilmente mi sareste anche magari trovati in vantaggio. Uno quello, due, la parte da metà campo in su non mi è piaciuta soprattutto nella gestione della tenuta della palla, il primo tempo. Non riuscivamo a tenere una palla e a far salire la squadra che è il nostro credo, no? Cioè il fatto di uscire con palla alla punta, di tenere la palla, far salire il centrocampo gli attaccanti esterni, eccetera, invece stavolta abbiamo fatto male quel lavoro lì. Quindi a livello da metà campo in su, a me la squadra non è piaciuta. A livello da metà campo in dietro invece mi è piaciuta molto, quindi si sono sacrificati anche i centrocampisti stessi, però mancava, ripeto, la lucidità nell'uscita della palla che è quello che è un po' la nostra caratteristica. E un titolo l'abbiamo fatto male. Però con questo io penso di un punto avessimo preso, insomma, non era proprio rubato. Grazie. Grazie.